Sono meglio i flash oppure è meglio la luce costante? Questa è una delle prime sfide che ci si trova ad affrontare quando si entra nel mondo della fotografia e del video. Con il contenuto di oggi sono qui a cercare di offrirvi una parziale soluzione andando a evidenziare quali sono i punti di forza dell'illuminazione continua e i punti di forza delle luci flash. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia e talvolta anche di video. Oggi vi parlerò di quelle che sono le principali differenze tra l'illuminazione continua, quella che sto utilizzando io in questo momento per illuminare la scena che vedete, e l'illuminazione flash. Andremo a vedere quali sono le principali differenze perché propendere per un tipo di illuminazione piuttosto che per un altro a seconda di quello che vogliamo fare. Io vi consiglio ovviamente di seguire questo contenuto fino alla fine perché non vi dirò quale delle due situazioni è meglio in assoluto ma cercheremo di capire caso per caso quale dei due tipi di illuminazione è migliore per il tipo di fotografia o di video che vi interessa. Ora prima che me ne dimentichi, vi ricordo per tutti quelli che stanno guardando questo contenuto ma non sono ancora iscritti al canale, potete farlo subito cliccando il bottone qui sotto e attivate anche la campanella. In questa maniera mi date supporto, aiutate il canale a crescere, a voi non costa nulla ma per me fa tutta la differenza del mondo. Molto bene, ma cominciamo col vedere come è fatta una luce flash, infatti andremo a esaminare i punti di forza e le debolezze di entrambi i sistemi. Qui vi presento una luce flash, questa qui è una monotorcia Godox, in particolare è la SK400 seconda versione. È una torcia che io utilizzo quasi sempre per tutti i miei shooting. Non chiedetemi qui come funziona perché ho un intero video dedicato al funzionamento e alle opzioni di questa torcia, ve lo linko in descrizione e ve lo lascio in card da qualche parte. Andatevelo a recuperare se vi interessa approfondire perché ho già fatto un contenuto proprio su questo in cui vi faccio vedere tutto quello che è possibile fare e come funziona nello specifico. Ora cominciamo a vedere i punti di forza di una luce flash. Ovviamente quando stiamo illuminando il nostro set con una luce flash godiamo di un output più potente. Questo che cosa significa? Nel momento in cui usiamo luce continua come quella che sto usando io adesso, abbiamo una luce che è sempre uguale, è costante, infatti si chiama continua. Nel momento invece in cui utilizziamo un flash l'emissione dura una frazione di secondo, per cui stiamo emettendo un lampo che dura molto di meno nel tempo ma è molto più concentrato, quindi è più potente. Questo infatti è un grandissimo vantaggio dell'illuminazione flash, la potenza. La potenza è molto superiore rispetto a quello della luce continua. Se noi andiamo a prendere una luce continua da 200 watt e andiamo a prendere una luce flash sempre da 200 watt, l'emissione della luce flash da 200 watt sarà molto più luminosa rispetto all'emissione sempre da 200 watt della nostra luce continua. Ovviamente è possibile pareggiare questa potenza di emissione anche con la luce continua, però questo comporta comprare una luce continua più potente, più performante, e questo significa che costa di più e che consuma di più. Quindi la luce flash, dal punto di vista dell'emissione luminosa, è vantaggiosa perché ci consente di avere una luce più forte che illumina la nostra scena per un prezzo inferiore e inoltre abbatte anche i consumi perché quella potenza è rilasciata solamente per un secondo al momento dello scatto, mentre la luce continua è accesa sempre, consuma sempre, produce sempre calore e va quindi a incidere anche sui consumi. Proprio in virtù di questa maggiore potenza, di questo output così luminoso, le luci flash sono ideali nel momento in cui si vuole andare a escludere la luce ambientale. Infatti quello che succede quando io sto scattando con il flash è che posso agire separatamente sull'illuminazione del flash e sull'illuminazione ambientale. Come lo faccio? Semplicemente gestendo i parametri con oculatezza. Infatti se è vero che i valori di diaframma e ISO agiscono sull'esposizione generale tagliando la luce del flash è vero anche che i tempi andranno a tagliare invece solamente la luce ambientale. Questo perché la luce ambientale è continua. La luce flash viene emessa per una frazione di secondo. Durante questa frazione di secondo la luce è incredibilmente più veloce del nostro otturatore. Per cui se io tengo un otturatore con un tempo di 3 secondi piuttosto che con un tempo di un duecentesimo nel caso vado a chiudere a un duecentesimo i miei tempi vado a tagliare quasi tutta la luce ambientale che invece sarebbe entrata a colpire il mio sensore con un'esposizione più lunga. In questo modo utilizzando il flash io riesco a escludere quasi completamente la luce ambientale. È quello che succede in quasi tutti gli studi fotografici. Quando noi scattiamo in uno studio fotografico non c'è buio completo, se no non vedremmo. Ma la potenza di emissione del nostro flash è più che sufficiente a coprire completamente la luce ambientale che comunque non sarà particolarmente intensa. È anche possibile utilizzare i flash per andare a pareggiare la luce del sole. Questo lo vediamo negli shooting in cui abbiamo magari il sole alle spalle dei nostri soggetti e utilizziamo il flash come fill per andare a illuminare il lato in ombra della persona, della cosa qualsiasi che stiamo fotografando. In questo caso noi utilizziamo il flash addirittura per contrastare la potenza del sole e funziona perché l'emissione di un flash è molto molto più potente di quella di una luce continua. Il secondo vantaggio di utilizzare una luce flash è che per lo stesso motivo una luce flash tende a cristallizzare il movimento per cui anche un movimento molto rapido risulterà perfettamente fermo nel momento in cui scattiamo con una luce flash. Questo che cosa significa? Che nel momento in cui scattiamo in un contesto di luce controllata, quindi in studio, se noi utilizziamo un flash, il flash sarà la fonte di illuminazione predominante e quindi escludendo la luce ambientale, escludendola semplicemente agendo sui valori di tempi di scatto, noi siamo in grado di cristallizzare perfettamente l'azione anche nel caso in cui stiamo fotografando una persona che abbia un minimo di movimento. Inoltre siamo in grado di cristallizzare anche il camera shake, quindi il movimento naturale delle nostre mani non sarà più un fattore perché nel momento in cui scattiamo con un flash in una situazione di luce controllata dove il flash è la nostra luce principale, anche se non siamo perfettamente fermi, tenderemo ad avere una percentuale di fotografie perfettamente a fuoco e nitide, molto superiore rispetto a quando scattiamo con luce continua. Questo proprio per il fatto che nel momento in cui premiamo l'otturatore è il lampo che determina quello che viene catturato dal sensore e solamente durante l'emissione del lampo ci saranno delle informazioni catturate effettivamente dal nostro sensore. Un terzo vantaggio sono senza dubbio i modificatori. Ora, io in questo momento ne sto utilizzando di modificatori, sto usando un beauty dish da 41 cm per illuminare la scena come luce principale e sto usando due matte box con dei gel colorati per illuminare il retro dello sfondo, insomma lo sapete, quella roba che vi faccio vedere all'inizio. Quindi sto utilizzando dei modificatori anche sulle luci continue. Questo perché inizialmente le luci continue erano per lo più dedicate al cinema, all'illuminazione del cinema, per cui non avevano tanti modificatori, perché le luci erano primitive, se così vogliamo definirle, e quindi scaldavano parecchio e molti modificatori proprio per loro natura non potevano essere usati su queste luci, perché delle luci con un'incandescenza così prepotente che scaldavano così tanto avrebbero dato fuoco a gran parte dei modificatori che invece era possibile usare sulle luci flash con la massima tranquillità. Per questo motivo i modificatori si sono sviluppati per essere utilizzati sulle luci flash, però allo stato attuale delle cose, soprattutto con l'avvento delle luci led che si scaldano molto di meno, abbiamo la possibilità di utilizzare la maggior parte di questi modificatori anche sulle luci continue, e infatti è proprio quello che sto facendo io. In particolare le luci che sto usando io, che sono tutte Godox, hanno la monta Bowens, che di nuovo è quella che è stata pensata per le luci flash, i modificatori sono tutti stati pensati per le luci flash, però queste luci di nuova concezione permettono di montare la stragrande maggioranza dei modificatori per flash anche sulle luci continue. Questo che cosa significa? Video con una bella luce, con una luce controllata che posso decidere io, con un'ottima qualità anche in uno studio piccolo come questo, e si riesce a lavorare molto molto bene. Rimane però il fatto che sulle luci flash ci sono ancora un paio di modificatori che funzionano meglio rispetto alle luci continue. Ci sono dei modificatori che riusciamo a far fruttare molto di più se stiamo utilizzando un'emissione flash piuttosto che una luce continua. Molto bene, adesso passiamo ai contro dell'illuminazione flash, quindi andiamo a vedere i lati negativi. Il primo è più che evidente, i flash non vanno bene per fare video, non vanno assolutamente bene perché per loro natura hanno un'emissione che è limitata nel tempo per cui con un lampo io non posso illuminare la mia scena in maniera costante, per cui con i flash potrò fare solo fotografia. Un piccolo corollario, questo non è del tutto vero perché alcuni flash, ed è il caso proprio di questo Godox che vi faccio vedere, montano questo bulbo che io adesso non tocco perché se lascio impronte digitali poi la mia impronta digitale brucia per via del calore, quindi non lo tocco con le mani nude. Come potete vedere qui abbiamo la lampada del flash, che è questa spirale qui intorno, e poi abbiamo il bulbo, questo qui più grande. Questa è la cosiddetta luce pilota. Queste sono due luci separate. Infatti la luce pilota è una lampadina a incandescenza che si accende per permettermi di vedere la scena se sono in uno studio al buio e se ho oscurato le tende, quindi accendo la luce pilota e vedo la mia scena, e mi consente inoltre di capire la luce come si comporta. Quindi io non scatto completamente alla cieca, ma ho un minimo di luce pilota per capire se ho posizionato correttamente le mie luci. Quindi non è del tutto vero che le luci flash non vanno bene per il video. Io posso usare la luce pilota per fare video. È una luce a incandescenza che non è adatta per fare video, non è pensata per quello e non è il massimo della vita fare video con una luce pilota di una testa flash. Però si può fare, non è impossibile farlo. Quindi vi segnalo questa cosa. È un utilizzo improprio, però non è impossibile farlo. Resta comunque il fatto che molti flash la luce pilota non ce l'hanno. Per esempio gli speedlight che noi attacchiamo alle nostre fotocamere sulla hotshoe non ce l'hanno la luce pilota, quindi non vanno bene per fare video. Il secondo contro, fare l'esposizione con la luce continua è abbastanza semplice. Io imposto l'esposizione sulla mia fotocamera, in questo momento sto utilizzando una Canon R7, vedo la mia esposizione corretta, ho la zebra attiva quindi posso anche vedere se sto sbagliando qualcosa, ma è tutto perfettamente in bolla. Però io comunque vedo, ho un riferimento visivo sul display e quindi so esattamente cosa sto facendo. Mentre col flash io non vedo niente fino al momento in cui scatto, solamente allora mi rendo conto se le luci sono posizionate giuste, se la potenza dell'emissione è giusta, se la direzione è giusta, se il colore è giusto, se qualsiasi cosa è giusto oppure no, me ne accorgo solamente quando scatto. Una volta non era nemmeno così semplice, perché una volta te ne accorgevi solamente quando sviluppavi il rullino, quindi ci voleva molta competenza per lavorare col flash. Si usava l'esposimetro, una volta non era possibile giocarsela come si fa oggi. Oggi con il flash si fanno due scatti di prova, più o meno sai già dove devi posizionarti se hai un minimo di esperienza, fai due scatti di prova e dagli scatti di prova capisci che cosa modificare per avere l'esposizione che vuoi e da lì lavori tranquillo. Ma una volta non si poteva fare perché non vedevi il risultato fino a quando non stampavi i rullini e quindi dovevi prendere un'esposizione per vedere che la luce fosse corretta e a quel punto potevi scattare, ma solamente se avevi calcolato correttamente l'esposizione in funzione della pellicola che stavi usando, quindi un grandissimo macello, scattare col flash rimane ancora oggi molto più complicato piuttosto che scattare con la luce continua. Anche perché soprattutto per gli utilizzatori di mirrorless, soprattutto per i nativi digitali che quindi magari nascono con la mirrorless in mano e non hanno mai potuto o voluto scattare con una tecnologia più obsoleta, più vecchia, che però ti insegnava tante cose. Nel momento in cui abituati come siamo, come siete in realtà perché io sono abituato vecchia maniera, abituati come siete a fare l'esposizione sul dorso della vostra fotocamera perché girate le ghiere e vedete l'esposizione finale già in camera, col flash questo non funziona più perché nel momento in cui noi guardiamo dentro nella nostra mirrorless vediamo una simulazione dell'esposizione della scena che abbiamo davanti, non della scena che abbiamo davanti con il flash. Quindi di nuovo dobbiamo scattare, dobbiamo fare una foto di prova per renderci conto se questa esposizione va bene oppure no e con il flash è molto difficile scattare in automatico, bisogna scattare in manuale col flash perché altrimenti ci darà sempre una lettura errata perché ci dà una lettura senza flash e poi parte il lampo e la lettura cambia completamente in funzione di come abbiamo posizionato le luci e di che modificatori stiamo usando, quindi è molto più complicato esporre correttamente col flash. Si impara, è una cosa che si impara e non è particolarmente difficile, una volta capito il concetto si impara, però non è naturale come esporre con la luce ambiente o con la luce continua. Un terzo contro, le luci flash proprio come le luci continue hanno quasi sempre dei dimmer, quindi abbiamo la possibilità di lavorare a potenza piena, a un mezzo della potenza, a un quarto della potenza, insomma abbiamo diverse potenze in frazioni e possiamo andare a selezionare dalla potenza più alta alla potenza più bassa. Il problema qual è? La potenza di emissione del flash è così alta che nella maggior parte dei casi abbiamo un massimo di potenza che ci permette di lavorare quasi sempre bene, abbiamo un minimo però che spesso e volentieri è troppo potente, quindi ci sono dei casi in cui magari soprattutto se vogliamo realizzare delle foto con una luce un po' fioca in cui la potenza di emissione del nostro flash è troppo alta e quindi ci costringe a prendere degli accorgimenti di altro tipo, mettere dei modificatori per schermare la luce, però questo significa comprare e trasportare dei modificatori in più, oppure utilizzare dei filtri per la nostra fotocamera, questo significa comprare e trasportare dei filtri in più. E questo mi porta al quarto contro, i flash per funzionare correttamente hanno bisogno di un sistema che l'interfacci con la fotocamera. La fotocamera deve scattare la fotografia, come fa il flash a sapere quando è che deve fare il lampo? Ecco che entrano in gioco i famosissimi trigger, per cui noi abbiamo dei dispositivi che vanno ad agganciarsi o sulla hot shoe della nostra fotocamera o hanno un'entrata cavo dedicata su alcuni modelli, su quelli più professionali, sugli entry level, no e bisogna usare per forza la hot shoe. Insomma esistono diversi sistemi sia con i fili sia wireless, quindi se siamo ancora col sistema con i fili, peggio ancora, immaginatevi è lo scenario peggiore che mi venga in mente e ho lavorato per anni con i flash con i fili, quindi so bene cosa vuol dire, non sono uno capriccioso che si tira indietro e non lavora se ci sono i fili, però conosco bene la comodità del wireless e ho sempre detestato avere quelle matasse di fili dappertutto attraverso lo studio, quindi fidatevi, so bene di cosa parlo. I fili sono una grandissima rottura e purtroppo in molti studi fotografici sono ancora l'unico sistema perché gli studi non sono sempre al passo con le ultime tendenze, finché hanno una luce flash che funziona non la cambiano e quindi noi ci dobbiamo tenere il cablaggio per far funzionare il flash in combinata con la nostra fotocamera. Questo è veramente scomodo e nel caso sia strumentazione nostra o noleggiata ovviamente ci costringe a portarci dietro l'innesto, il cablaggio e poi a tenere tutto il cablaggio fuori, dispiegato nello studio sulla nostra scena nel momento in cui stiamo scattando. Questo è molto molto scomodo nel peggiore dei casi quando abbiamo il cavo, nel migliore dei casi quando abbiamo un trigger wireless come nel mio caso io utilizzo l'X Pro C per far funzionare le mie luci Godox funziona perfettamente e c'è per i maggiori brand in commercio, quindi Canon, Nikon, Sony e non mi ricordo più, l'hanno appena fatto per Fuji forse, mentre forse per Olympus e per Pentax forse ancora non c'è, ma non vorrei dire una stupidata perché non sono sicuro su questa cosa. E questo però di nuovo significa che dobbiamo comprarci il trigger che ha un costo che potrebbe anche essere un po' seccante perché se ricordo correttamente costa un bel centello, quindi insomma è un pezzo in più che ci dobbiamo prendere, mentre con le luci continue non serve nessun trigger perché funzionano già da sole. Molto bene, ma ora che abbiamo visto vita, morte e miracoli dell'illuminazione con le luci flash, passiamo a fare un raffronto con la luce continua. Partiamo dal primo grande vantaggio di utilizzare la luce continua per illuminare i nostri set, il primo grande vantaggio è il primo grande svantaggio dei flash. Nel momento in cui io illumino la mia scena con la luce continua, posso fare sia foto sia video. Io adesso sto riprendendo un video, se avessi una macchina fotografica di fianco potrebbe pum 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 fare le sue belle foto e la scena sarebbe esattamente la stessa. Quindi a seconda del caso dobbiamo pensarci perché soprattutto se dobbiamo fare sia foto che video, voi immaginatevi, fate finta che io sia un modello, fate finta che voi siate gli operatori e mi dovete fare questo video che state vedendo però mi dovete fare anche delle foto. A questo punto è ovvio che ci vuole l'illuminazione continua per fare i video, per forza, non si può usare i flash. Potrebbe essere bello lo stesso usare i flash per fare le fotografie, però a questo punto non ci conviene perché dobbiamo anche essere efficaci ed efficienti e siccome abbiamo già montato le luci continue, tanto vale mantenere lo stesso setup e fare sia foto sia video con lo stesso setup e così siamo più efficienti, montiamo una volta sola e soprattutto il set è esattamente lo stesso. Quindi avremo la temperatura colore, il posizionamento, i modificatori, l'intensità della luce saranno esattamente uguali sia nelle nostre foto che nei nostri video. Un altro grandissimo vantaggio delle luci continue è che soprattutto le luci led possono variare il loro colore. Vedete qui ho una tube light sempre di Godox e su questa io posso andare a modificare il colore. Adesso spero che riusciate a vedere, vedete che siamo andati a 2700 kelvin e la luce è più calda mentre se io la porto dall'altra parte e vado a 6500 kelvin la temperatura cambia. Vediamola da questa parte così si vede un po' meglio. Spero che riusciate ad apprezzare. Vedete ora abbiamo una luce calda che va a sciacquare via tutto il blu da questa parte e ora invece abbiamo una luce fredda che quindi va oltre il bianco e va a rintrodurre un pochettino di azzurro. Inoltre sempre sulle luci led abbiamo la possibilità di scegliere un colore e quindi senza utilizzare color gel abbiamo la possibilità di modificare il colore della nostra luce in maniera molto rapida e molto semplice quindi possiamo avere delle luci colorate ci permettono di colorare il nostro set in maniera molto facile rapida e comoda e questo è un indiscusso vantaggio delle luci continue moderne quindi non è sempre stato così delle luci led. In realtà questo si può fare anche sulle luci flash però bisogna utilizzare dei device di questo tipo questo come potete vedere è un color gel questo qui in particolare è già stato predisposto per essere applicato sulle luci godox che stanno alle mie spalle ovviamente come potete immaginare io ho applicato uno di questi con il gel azzurro da quella anzi con il gel blu da quella parte e l'ho applicato doppio con il doppio gel arancione da quest'altra parte perché la luce gialla è più intensa di quella blu quindi l'ho raddoppiato in modo da schermare da dargli un colore più forte. Questo solo per dirvi che si possono colorare benissimo tutti i tipi di illuminazione che noi abbiamo però con le luci led moderne è molto più semplice perché è sufficiente un tasto e si può dargli il colore che vogliamo noi e si può variare la temperatura colore e dargli la temperatura colore che vogliamo noi. Il terzo punto a favore delle luci continue ovviamente è l'esposizione è il contrario di quello che abbiamo visto prima ovviamente se con i flash è più complicato esporre con la luce continua è facilissimo esporre noi guardiamo dentro nel reticolo della nostra fotocamera quello che vediamo è esattamente la fotografia che faremo la luce è già corretta così non ci sono luci supplementari che entrano in gioco solo quando scattiamo io sto girando un video questa è luce continua e questa luce rimane così dall'inizio alla fine della mia ripresa quindi io so esattamente come sono le mie luci posso posizionarle vedo già il risultato finale e se sto usando una mirrorless vedo anche già l'esposizione finale sono in grado di sostanzialmente fare l'esposizione guardando l'immagine sul monitor che non va bene non va assolutamente bene vi linko in card un video che ho già fatto su come si utilizza l'esposimetro e su come si utilizza l'istogramma per capire se la scena è esposta correttamente ricordatevelo è importante non bisognerebbe esporre guardando l'immagine è un modo poco accurato di esporre ricordatevelo sempre bene ma adesso passiamo ai contro dell'illuminazione continua ovviamente come abbiamo visto per i flash e qui di nuovo è speculare l'illuminazione continua potrà essere più comoda per certi aspetti però una cosa è certa l'emissione luminosa è inferiore a parità di potenza quindi a parità di potenza abbiamo 60 watt di emissione luminosa continua e 60 watt di luce flash la luce flash sarà più potente della luce continua proprio per la natura intrinseca del funzionamento la luce flash condensa tutta la sua potenza in un lampo che dura una frazione di secondo mentre la luce continua dilata la sua potenza nel tempo e quindi la spalma su tutto il mio video per cui l'emissione risulta essere di potenza inferiore inoltre la luce continua è continua quindi rimanendo continuamente accesa consuma di più ha un consumo più alto produce più calore e quindi vi assicuro che io ho caldo in questo momento nonostante ci sia l'aria condizionata accesa io ho caldo perché ho queste luci puntate contro che stanno a stanno a tre metri tutte intorno a me e mi arriva il caldo perché comunque si scaldano producono calore hanno una ventola di raffreddamento che io sento il microfono non la cattura per fortuna è un rumore basso però io sento il rumore della ventola di raffreddamento che è in funzione per raffreddare queste luci che comunque producono calore un altro punto a sfavore dell'illuminazione continua è che fai molta fatica a contrastare la luce ambientale ora non è questo il caso perché qui io sono in una situazione di luce controllata nel senso che questo è uno studio oscurato a me piace lavorare in controllo totale dell'illuminazione quindi io oscuro lo studio e in questo studio quando io faccio un video magari non proprio sempre perché può esserci la volta che sono pigro e lascio l'oscurante mezzo aperto per far entrare un po di luce però la maggior parte delle volte oscuro tutto e quindi quello che voi vedete è il risultato della mia illuminazione queste sono le mie luci e basta non esiste luce ambientale qui dentro queste sono solo luci artificiali che ho deciso io esattamente dove dovevano stare e cosa dovevano fare sarebbe diverso se stessimo girando in uno studio aperto con un'ampia finestra o addirittura all'aperto se stessimo girando in una condizione dove c'è della luce ambientale della luce del giorno che entra da una finestra piuttosto che la luce di un'altra lampada sarebbe quasi impossibile escluderla completamente dalla ripresa e adesso ve lo dimostro vedete che nel momento in cui io vado ad accendere questa luce ok anche se io la posiziono lontano da me vedete io non riesco a far sparire questa luce in più che c'è su di me non importa quanto io alzi le luci che stanno nel mio studio questa è un'emissione che è praticamente di pari potenza alle altre quindi io non riesco a farla sparire non riesco a oscurarla mentre se stessi scattando con una luce flash probabilmente ci riuscirei o comunque ci andrei molto molto più vicino perché la potenza di emissione del flash è molto superiore a questa e quindi riuscirei a sovrastarla e a oscurarla o quantomeno a mitigarla quanto più possibile ovviamente proprio come già detto per il flash qui abbiamo il problema opposto ovvero quello del camera shake se con il flash nel momento in cui noi scattiamo è l'emissione del lampo che ci fornisce la nostra esposizione quindi che cristallizza i movimenti in quel secondo in cui il lampo colpisce le superfici quando scattiamo con luce continua questo non avviene infatti quando scattiamo con luce continua è un contesto molto simile a quando stiamo scattando senza luci quindi con la luce naturale all'aperto e quindi noi possiamo introdurre del mosso nelle nostre immagini si può muovere il soggetto se io mi muovo mentre mi fanno una foto vengo mosso perché non vengo cristallizzato dal lampo così come può esserci del movimento dovuto anche al movimento della macchina dell'operatore se l'operatore non ha la macchina ben salda o se ha dei tempi di scatto troppo dilatati ci può essere del mosso del micro mosso dentro nelle immagini ma dunque quale sistema è meglio quale devo scegliere per le mie fotografie o per i miei video allora vi fornisco in soldoni quella che è la mia soluzione personale non esiste una soluzione che vada bene sempre o una soluzione che non vada bene mai sono entrambe soluzioni estremamente valide dobbiamo soprattutto se stiamo facendo i primi acquisti dobbiamo ragionare in funzione di che cosa vogliamo realizzare una cosa è garantita se vogliamo realizzare anche video dobbiamo andare per forza con le luci fisse questa già è una discriminante molto forte perché se vogliamo fare video con i flash non si può e quindi dobbiamo per forza andare su un sistema di illuminazione fisso con cui poi potremo fare anche fotografie esistono alcuni generi fotografici dove è molto meglio avere i flash perché con la luce continua si farebbe molta fatica in certi generi come per esempio il ritratto fashion quando si vuole andare a pareggiare la luce del sole a usare il flash come fill per riempire le ombre è molto meglio utilizzare un flash piuttosto che una luce fissa per diversi tipi di fotografia di prodotto io reputo che sia molto meglio utilizzare il flash come per esempio fotografare una bottiglia o fotografare oggetti riflettenti vi lascio qualcosa in card perché ho già fatto dei video a questo riguardo quando noi vogliamo fotografare per esempio una bottiglia che è un oggetto che riflette l'ambiente circostante noi vogliamo utilizzare un flash per cercare di eliminare quanto più possibile la luce ambientale in modo da avere la bottiglia isolata con il riflesso del nostro modificatore sulla superficie di vetro ma senza vedere noi stessi riflessi nella bottiglia per esempio cosa che succederebbe se utilizzassimo la luce continua ci sono poi dei casi in cui utilizzare la luce flash è molto conveniente vi faccio l'esempio della ballerina se noi stiamo in studio e stiamo fotografando una ballerina che fa il balzello o se stiamo fotografando uno swish sapete cos'è uno swish quando una ragazza fa così coi capelli quello è lo swish se vogliamo fotografare uno swish e cristallizzare i capelli a mezz'aria è molto più facile farlo con un flash piuttosto che con una luce continua se vogliamo cristallizzare un movimento con una luce continua possiamo farlo ma dobbiamo farlo chiudendo i tempi dobbiamo farlo velocizzando il nostro scatto e se velocizziamo il nostro scatto quello che succede è che avremo meno luce e quindi siccome abbiamo una potenza di emissione minore dovremo aumentare gli iso e andare a scattare a tutta apertura e potrebbe non essere quello che vogliamo anche perché uno swish a tutta apertura viene sfocato avremo la profondità di campo troppo sottile non riusciremo a focheggiare dove vogliamo su una persona che oltretutto si muove quindi in quel caso per esempio sono molto molto più indicati flash così come sono molto più indicati flash a mio parere per fare fotografia di interni perché nel momento in cui noi abbiamo immaginatevi una stanza con una finestra quindi abbiamo una luce dentro e una luce fuori ovviamente fuori c'è il sole il sole è più potente di qualsiasi luce ci possa essere dentro luce continua voglio dire quindi noi con una luce fissa facciamo fatica a pareggiare l'emissione del sole ma con una luce flash ci riusciamo anche perché in questo caso la nostra macchina fotografica ci aiuta infatti se io voglio pareggiare l'esposizione del cielo fuori con l'esposizione della stanza dentro la stanza è più scura io sparo un flash di schiarita all'interno della stanza e vado a chiudere sui tempi di scatto quindi andando a un duecentesimo di tempi di scatto o anche anche di meno se ho lo high speed sync sul mio flash e sulle luci godox che vi ho fatto vedere mi pare proprio che ci sia l'ho usato una volta se io vado a tagliare i tempi vado ad abbassare l'esposizione solamente del cielo solamente fuori perché l'interno è illuminato dal mio flash quindi vado a pareggiare l'esposizione in questo modo ecco che utilizzare una luce flash in questo caso è essenziale per la buona riuscita non posso stare qui a farvi esattamente tutta la casistica perché mi dimenticherei sicuramente qualcos'altro per cui vi lascio come sempre spazio nei commenti se c'è uno shooting in particolare che avete in mente e siete indecisi se utilizzare flash o luce continua scrivetemelo in un commento cercherò di rispondervi quanto più tempestivamente possibile vi ricordo che spesso e volentieri rispondo con degli shorts dei contenuti verticali per cui vi consiglio di iscrivervi così se mi fate una domanda e io vi vado a rispondere con uno shorts non ve lo perdete perché vi compare nelle notifiche qualsiasi cosa io mi fossi dimenticato chiedetemelo in un commento sarò più che felice di rispondervi se c'è qualcosa che voi fate in maniera diversa se ho dimenticato qualcosa se ho commesso delle inesattezze parliamone pure nei commenti io qui cerco di esporre quello che è il mio modo di lavorare e ogni tanto magari faccio delle semplificazioni che se uno ne sa già qualcosa possono sembrare forzate quindi anche di questo parliamone tranquillamente nei commenti possiamo approfondire magari cose dove io qui sono stato un po più sbrigativo e se vengono fuori degli argomenti di confronto interessanti può anche essere che ci scappi un altro video solamente su quell'argomento molto bene amici io spero di essere riuscito a trasmettervi qualcosa di quella che è la mia esperienza di avervi chiarito un po le idee su quali sono i vantaggi di questi due sistemi di illuminazione non mi dilungo ulteriormente ma vi ringrazio di aver passato un po del vostro tempo con me e io vi do appuntamento al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.